Casini a Isernia per il SIA referendum ed è polemica a livello nazionale con interventi di parlamentari ed organi di informazione che attaccano il presidente della commissione esteri della Camera perché gli avvocati che parteciperanno all'incontro con il leader politico sabato pomeriggio all'Hotel Europa otterranno dei crediti formativi. Solo una strumentalizzazione politica replica Marciano Moscardino, presidente dell'ordine degli avvocati di Isernia che in un comunicato stampa ricordato come sabato scorso anche per un evento legato al no referendario siano stati attribuiti crediti formativi agli avvocati. Sulla stessa linea anche Mimmo Itzi che ha organizzato l'evento di sabato prossimo. Beh questa è una cosa davvero molto molto strana sono stati fatti qualche giorno fa anche a Isernia iniziative in tal senso per il no addirittura a Napoli il foro romano di Napoli con esponenti importanti della politica nazionale e tutto è andato liscio. A Isernia arriva Casini e sorge questo problema che poi devo dire è stato molto bravo il presidente dell'ordine dell'avvocato di Isernia a ribadire la cosa dicendo appunto che verrà dato a tutti il crediti come è stato fatto per gli altri e come succederà anche nel futuro perché a breve c'erà una nuova iniziativa sempre proposta dal no in questo caso e appunto lui darà i crediti formativi. Non capisco questa polemica. Per il coordinatore regionale dei centristi di Casini c'è anche una motivazione politica la base delle polemiche. Beh lei ha centrato il problema io credo che sia soltanto questo Casini è un leader nazionale che sta ricostituendo il centro a livello proprio nazionale del partito sta ricostituendo questo questo centro di moderati e anche Isernia viene anche a portare queste queste notizie. Credo che un leader come Casini dà fastidio e questa cosa quindi è esulata al discorso referendario. Credo che sia proprio nella questione politica che si sta creando a livello nazionale questa nuova fase politica e non ci scordiamo che fra un anno un anno e mezzo avremo anche qui a Isernia le elezioni e quindi credo che questo fatto di Casini dia fastidio a qualcuno anche perché devo dire che è molto sentito a Isernia quindi verrà tanta gente a sentire Casini perché insomma comunque è un leader un leader che ha fatto molto anche a livello nazionale ed è conosciutissimo anche da uomini politici qui di Isernia di Stazzo qui. Voglio dire lui verrà e dirà anche alcune cose credo in questo senso.